Tre banditi, volti nascosti da passamontagna, guanti alle mani, una pistola, forse giocattolo. Vera e temibile invece la minaccia alla barista, una ragazza cinese e uno degli avventori del locale, che si sono trovati di fronte alla banda incappucciata e armata, anche di un ardese appuntito. Sono dotato alle spalle, mi sono apparso i tre banditi, uno armato con la pistola e uno con la chiave appuntita. E mi hanno cacciato a terra, capito. Mancano pochi minuti alle 23 alla sala slot atlantica di un edifonte. La ragazza è dietro al bancone, l'uomo sta parlando con lei. Quando i tre malviventi varcano la soglia del bar, uno punta loro addosso la pistola, un altro una sorta di cacciavite. Minaccia e uno mi ha portato questa pistola alla sua spalla. Intimano alla ragazza la consegna dell'incasso, vorrebbero il portafoglio del cliente. Mi ha chiesto il portafoglio a me, ma io ho sentito, ho dato l'idea di essere disoccupato e di lasciarmi stare. I malviventi, preso il bottino, si parla di 10 mila euro circa, si sono dileguati a bordo di una Fiat Punto che è stata ritrovata due ore dopo dai carabinieri e risultata rubata. La rapina è stata però interamente immortalata dalle telecamere di videosorveglianza interni alla sala.